Dibattito interno, organizzazione territoriale e struttura gerarchica di un partito sono questi i punti dei quali proprio a Lecce Forza Italia vuole ripartire dopo il cambio a vertice della segreteria provinciale. Onorevole Forza Italia a livello provinciale si riorganizza, ecco quale sarà il primo passo che indicherà il nuovo coordinatore provinciale? Si parte, ci aggiungo il punto esclamativo perché è veramente l'esortazione a ripetere l'esperienza di un successo di Forza Italia che abbiamo già avuto in altre città in Puglia e in particolare a Brindisi. Dopo otto anni e mezzo un cambio al vertice della segreteria provinciale è una necessità per ridare smalto ed entusiasmo o è un ben servito al vecchio coordinatore? No, è una scelta della quale come sono abituato a fare di solito mi assumo la responsabilità, l'ex coordinatore provinciale è impegnato a fare il presidente del gruppo alla regione, adesso c'è chi si occuperà del coordinamento provinciale. E così tanti gli amministratori oltre ai militanti e ai sognatori che da diversi comuni del Salento gli sono dati appuntamento per sentire quali saranno le nuove linee pragmatiche. Tante belle persone che hanno ritenuto il sabato mattina di una giornata di giugno di voler incominciare ad impegnarci seriamente. Un passaggio di testimoni tra i due coordinatori provinciali, Pari De Mazzotta ha portato fino a poche settimane fa il coordinamento provinciale, l'ha guidato, adesso passa a lei. Cosa salva di quella gestione e cosa cambierà? No, come sempre non c'è da buttare qualcosa o da salvare qualche altra cosa. La segreteria provinciale precedente ha svolto una funzione per otto anni e mezzo, ringraziamo ovviamente per il lavoro che è stato fatto, che ha portato determinati risultati. Adesso è necessario continuare, proseguire il lavoro, io credo che è una stagione anche diversa. È una stagione diversa.